Da quanto tempo sei qua? Alle 30 augusto dalle oggi, due settimane. Hai lavorato tutti i giorni? Ho lavorato sei giorni, solo. Quante persone stanno qua in questo campo? Minimum cento persone, centocinquanta. E lavorano tutti? Ora tutti, 90%. Quanto pagano un'ora più o meno? Più o meno, così uguale come tutti, cinque euro. Ed è abbastanza cinque euro? Per quello lavoro che facciamo, che è pesante, non ho che abbastanza, non mi conviene. Però quando non c'è niente di queste crisi qua, dobbiamo fare qualcosa. Non è da mangiare, non è da dormire? No, noi dormiamo qua, in tenda. Per mangiare, prendiamo noi. Da due anni a questa parte abbiamo, come dire, relegato o sistemato, anche se sistemato è una parola forza eccessiva, con bagni chimici in una doccia, nella zona industriale, queste persone che invece prima dormivano sul letto del fiume, o a bordo del fiume, in tutte le zone di Canelle. Abbiamo cercato di dargli un minimo di dignità. Quanti soldi ti porti a casa, in tasca, quando finisci? Eh, 300, 400, così. E a cosa servono in Bulgaria 300 euro? Quanto vivi? Un mese? Due? Non per morire, solo per mangiare. Noi non dobbiamo farle arrivare queste persone, dovremmo essere in grado di controllarle, dovremmo essere in grado di fare e di interpretare diversamente il libero scambio, la libera circolazione di merci e persone, fare come fanno in altri paesi, e impedire che queste persone possano dormire a cielo aperto e che non sappiamo e non si sappia di che cosa vivono. Tre giorni fa sei andato al lavoro e ti sei fatto male? Male tre giorni fa lavoro finito ieri pomeriggio, perché non è possibile lavorare. Io ho finito lavoro, ho mangiato pomeriggio e parlo a Carlo, scusa, per me vendemmia è finita. Ma perché tre giorni lavorare, malato? Non è possibile. Ok, uno giorno, altro, e oggi è finito, basta. Scusa, 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 scrivi tutti quanto ore, mi paghi soldi, ok, pagato. E io, parlo, ora che amo pronto so corso, perché è problema, questo è sempre, sei chilometri, appedi, non è possibile ritorno qua. No, 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 pronto so corso, perché arrivato pronto so corso, grande casino, perché è contratato di lavoro, sono per due giorni. Questo contratto dovevo lavorare uno anni fa, a questo per questo anni è uguale, niente. Giornale lavorativo, riviste, due. E quante ne lavorate? E ora, sei 10 giorni. Qua sul contratto tu c'è scritto che devi fare due giorni di lavoro? Ma non lo so come è scritto, io non capisco quelli, perché sempre sono andata a lavorare a fabbrica, no, ti sono lavorata, agricoltura tutta vita. E tu quanti giorni lavori più o meno? Eh, ma quasi sei giorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.